Vodka nananana Mein ganzer Bauch ist voll mit Vodka nananana Bibi Hot Baby und ich Vodka nanan Finito allenamento guardo un porno porno Mi faccio una sega gnam gnam La tua ex con me invece fa miau miau Ha finito di soffiarlo ha fatto ingoio in goio Ring ring e sborri in arrivo Ding dong è arrivata la mignotta Ma i soldi contatti non ce li hai wandi Da questo video Ora faccio bene vedere il video di Fortnite Dopo vi dite la mia reazione a risposta al commento risposte al commento su tik tok a questa persona Andiamo a vedere prima il video E dopo andiamo a vedere la mia reazione della mia risposta del commento guardate la clip prima e guardate anche questo buca nana nana ma inganzer vao rispondendo vodca nana bibi hot baby und ich vodka nana grazie m rt e chiodo n con il crocifisso con il borda viola e con una faccina così grazie che mi ha detto che questo il trend del 2019 2020 tra il 2019 e 2020 lo sapevo già grazie comunque che viene detto al prossimo video risponderà ai vostri commenti